Anche negli anni 60 la Cadillac fece tendenza nei vari modelli contraddistinti dalle vistose pinne ispirate a quelle dei jet militari. Eldorado, ma anche Fleetwood, nelle varie versioni erano i nomi delle vetture più ambite dalle nuove generazioni degli americani, ma lo sono ancora oggi per i veri amanti delle auto d'epoca statunitensi. Negli anni 80 e 90 Cadillac, persi i connotati più appariscenti, ha mantenuto le caratteristiche di auto di lusso ed elegante, ben espresse nel modello Ayanté. Nel nuovo millennio la Cadillac, che ha proposto anche numerose concept cars, si è profondamente rinnovata e ora le sue auto simbolo sono diventate la berlina CTS con varie motorizzazioni e la XLR, una moderna cabriolet con un potente motore V8, in grado di offrire prestazioni davvero sportiva. Una Cadillac che ha attratto l'attenzione non solo del mercato statunitense, ma anche di quello europeo. Anche in questa cabriolet è da ammirare la scomparsa della Capote, in cui il sistema utilizzato da Cadillac non ha niente da invidiare a quelli impiegati da altre case automobilistiche. E di Cadillac si parlerà certamente anche in futuro. Grazie a tutti.